È negativo il saldo per il 2023 tra aziende che in Toscana hanno cessato le attività e quelle che hanno aperto oltre 8.200 in meno, confermando il momento complicato per il settore terziario regionale. È quanto emerge da un'indagine condotta da Format Research per Confcommercio Toscana che sottolinea come alla perdita di ricchezza di posti di lavoro si accompagna una progressiva scomparsa delle identità cittadine con la chiusura di attività storiche. Secondo l'Associazione di Categorie il trend non è imputabile soltanto a cause prettamente economiche ma anche alla sempre più precaria sicurezza. I commercianti chiudono e la delinquenza invece apre. Apre attività illegali, abusivismi, rapine, spaccate, forme che in qualche modo sostituiscono una vita, una qualità della vita che prima caratterizzava il vissuto delle nostre città. L'indagine rivela anche come nel secondo semestre dell'anno si sia registrato un leggero calo dell'occupazione, sebbene gli intervistati prevedano stabilità nella prima metà di quest'anno e guardino ai prossimi mesi con ottimismo. Diciamo che la contrazione nel commercio tradizionale è in atto ormai da anni, c'è sempre più difficoltà. Si è usarita un po' quella spinta che definirei anche uforica post pandemia dove probabilmente si è speso quello che non si è speso nel periodo precedente e questo oggi genera soprattutto nei confronti del mercato interno una situazione di stallo, di stallo preoccupante. C'è molta attesa al turismo, soprattutto al turismo internazionale che ha un beneficio indiscutibile sugli equilibri del settore.